E' morta proprio oggi sulle Alpi Svizzere Estelle Baletto, la famosa snowboarder di 21 anni di età, campionessa mondiale di free ride. L'incidente si sarebbe verificato poco prima delle 8 sul portaletto vicino a Orsiazers nel cantone baldesi. Secondo una primissima ricostruzione diffusa dalla polizia cantonale, la slavina si sarebbe staccata dopo il passaggio dello Chateau e che precedeva a Balè. Prima dell'arrivo del ricotto di soccorso, la giovane era stata estratta dalla neve a Chiette, però sarebbero valsi i tentativi di rianimarla. La campionessa era usata sia del localizzatore sia dello zaino airbag e indossare il casco. Balè era considerata un vero e proprio fenomeno dello sci fuori pista e aveva scalato in breve tempo le classifiche mondiali fino a conquistare il Free Ride World Tour. Questo sarebbe quanto, cari utenti di Youtube, il video termina qua. Grazie. Grazie. Grazie.